Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a vedere l'addizione e la sottrazione di polinomi. Nella lezione precedente abbiamo visto la definizione di polinomio, abbiamo visto come determinarne il grado rispetto a una lettera e il grado complessivo e infine abbiamo visto alcune definizioni legate al polinomio, alcune delle loro caratteristiche. A questo punto, come abbiamo fatto precedentemente per i monomi, vedremo come eseguire alcune operazioni aritmetiche tra polinomi, a partire da quelle più semplici, ovvero l'addizione e la sottrazione. E di nuovo, così come abbiamo fatto per i monomi, sarà importante prima di tutto essere in grado di identificare i termini simili in una somma tra polinomi, perché ha chiedere a calcolare la somma di due polinomi e infine vedere come calcolare la differenza. E' chiaro che quando io dico due polinomi, la procedura che ci permette di risolvere se la somma è la differenza potrà essere facilmente generalizzata alla somma e la differenza di tre o più polinomi. In questo caso noi procederemo attraverso un esempio. non c'è una regola generale, però c'è una procedura che io vi consiglio di seguire per risolvere correttamente la somma o la differenza di due polinomi. Come vedete qui ho scritti i nomi, li ho identificati racchiudendoli tra parentesi tonda, quindi ecco il nostro primo polinomio, anzi più in particolare è un trinomio, perché è fatto da tre termini, a alla seconda b più 2ab alla seconda meno 7b alla seconda, che è sommato con un altro polinomio, di nuovo un altro trinomio, che andiamo a leggere qui, 5a alla seconda b meno 8ab alla seconda più 4a alla seconda b alla seconda. Ed è chiaro che per svolgere il nostro calcolo il par di togliere le parentesi. Ora, nel caso dell'addizione, si tratterà semplicemente di riscrivere pari pari tutti i termini. Nel caso della differenza dovremo stare attenti soprattutto là dove c'è un segno meno davanti a parentesi. A questo punto noi abbiamo ottenuto un nuovo polinomio, un polinomio in 6 termini, e uno potrebbe pensare che ci potremmo fermare qui. Invece il nostro obiettivo sarà di ottenere un nuovo polinomio, ma più compatto. E questo lo possiamo fare solo andando a vedere se ci sono dei termini che si possono sommare tra di loro, ovvero dei termini simili. Ed è questo appunto il nostro secondo passaggio. Per fare questo, ecco, visto che noi abbiamo ben 6 termini e ci capiterà anche delle somme in cui ci sono ben più di 6 termini, è molto facile confondersi, è molto facile sbagliare un monomio con un altro. Quindi io consiglierò di usare dei simboli grafici, delle sottolineature, o come farò io adesso, evidenziare i termini simili. Allora, facciamo con l'evidenziatore giallo, no? E cominciamo con il nostro primo monomio, A alla seconda B. Ora il nostro scopo sarà di trovare la stessa parte letterale, la stessa lettera, allo stesso grado. Salto i primi due perché facevano già parte del polinomio in partenza, andiamo al quarto termine e vediamo che ha esattamente le stesse lettere, A e B, alla stessa potenza. Quindi io posso evidenziare questo monomio. Attenzione, si evidenzia tutto, anche il segno, perché sarà importante poi nel passaggio successivo. Andiamo a vedere gli altri due termini e questi non sono simili, cioè contengono le stesse lettere ma non alla stessa potenza. segno grafico e partiamo dal secondo termine, quindi più 2, A, B, alla seconda. Qui ci sono, eccolo qui, meno 8, A, B, alla seconda e quindi lo andiamo a evidenziare. Passando al terzo termine, si nuova, si cambia colore, si cambia segno grafico, ma meno 7, B, alla seconda è un termine a sé stante, non ha altri termini ad esso simili, quindi non gli faremo nulla, lo riscriveremo pari pari. E lo stesso possiamo dire per l'ultimo termine della nostra addizione tra polinomi, ovvero più 4, A, alla seconda, B, alla seconda. E capirà molto spesso che negli esercizi voi abbiate dei termini che hanno le stesse lettere ma con dei gradi diversi, quindi sarà facile confondere. Ma vedete già, ora, usando l'evidenziatore, come sia più facile, più visivamente semplice vedere quali termini vanno sommati fra di loro. E a questo punto cosa abbiamo? Abbiamo A, alla seconda, B, più 5 alla seconda, B, somma di monomi, si sommano solo i coefficienti, questo è un coefficiente 1, vi ricordo, quando non c'è nessun numero è sottointeso 1, 1 più 5 fa 6, anzi guardate, vado a evidenziare di nuovo nel colore corretto il risultato di questa somma. notate come la parte letterale non cambi, questo è molto importante, andiamo a sommare gli altri due termini simili, ovvero, un attimo cambiamo colore, 2 abbia la seconda, meno 8 abbia la seconda, di nuovo 2 meno 8 fa meno 6, infine gli altri due termini rimarranno invariati, quindi io gli scriverò pari pari di seguito, infine, più 4 alla seconda, e a questo punto la somma di questi due polinomi è completa. andiamo a vedere come si procede se avessimo avuto gli stessi polinomi, ma questa volta sottratti. Allora, di nuovo abbiamo questi due polinomi, il primo passaggio è lo stesso, toglie le parentesi, però ad ora bisogna fare attenzione, perché la prima parentesi la posso togliere senza problemi e quindi vado a riscrivere i tre termini, questo polinomio, esattamente come erano prima, a alla seconda b, a alla seconda b, più 2 abbia la seconda, più 2 abbia la seconda, meno 7 abbia la seconda, meno 7 abbia la seconda, per quest'altro polinomio devo stare attento, perché ho un meno davanti alla parentesi, un meno davanti alla parentesi è come dire, meno 1 moltiplicato con tutti i termini all'interno a parentesi, quindi cosa significa? Significa che tutti i termini all'interno a parentesi devono cambiare di segno, i monomi che hanno segno positivo diventano negativo, i monomi che hanno segno negativo diventano di segno positivo e così è, perché questo era positivo diventa negativo, questo era negativo diventa positivo e questo era positivo diventa negativo. Da qui in avanti procediamo esattamente nella stessa maniera che abbiamo fatto nel caso precedente e quindi i termini simili saranno gli stessi, ma vedrete il risultato cambierà perché prima erano a sommarsi, ora sono a sottrarsi, quindi molto velocemente vado a evidenziare i termini simili, a alla seconda b, meno 5 alla seconda b, poi abbiamo più 2 a b alla seconda e vedrete che mano a mano che faremo esercizio sul somma tra i polinomi questi passaggi diventeranno automatici per voi. All'inizio sembra complicato soprattutto quando uno ottiene queste lunghe espressioni e deve andare a identificare i termini simili, ma di nuovo usare dei colori, usare delle sottolineature diverse vi permetterà di orientarvi tra i vari termini e quindi poi ci sono gli altri due termini che non si sommano con nessuno perché non hanno altri termini simili. arriviamo velocemente al risultato che penso mentalmente molti di voi avranno già ottenuto poi comunque faremo esercizi su questo argomento in classe e allora se noi andiamo a vedere a alla seconda b, meno 5 alla seconda b otterrò meno 4 alla seconda b, più 2 a b alla seconda più 8 a b alla seconda otteniamo più 10 a b alla seconda e gli altri due termini rimangono invariati. Con questo è tutto, arrivederci alla prossima lezione da Mr. Boscherini.